Zip News, speciale meteo. Temperature stabili, massime tra 32 e 35 gradi, più fresco sulle adriatiche. Al sud, cieli sereni o poco nuvolosi, salvo nubi pomeridiane, con locali acquazzoni o temporali tra bassa Calabria e sud-est Sicilia. Temperature poco variate, massime tra 27 e 32 gradi. Domenica, al nord, alta pressione e bel tempo, salvo nuvolamenti pomeridiani e locali piovaschi sui settori alpini e occidentali. Temperature in ascesa, massime tra 32 e 36 gradi. Al centro, condizioni anticicloniche con cieli sereni o poco nuvolosi, salvo annuvolamenti sull'appennino toscano. Temperature in rialzo, massime tra 33 e 38 gradi, più fresco sulle adriatiche. Al sud, l'alta pressione garantisce tempo stabile, con cieli terzi prevalenti, salvo rada instabilità in appennino. Temperature poco variate, massime tra 27 e 31 gradi. È tutto grazie per l'ascolto in regia, Rosario Perez. Le notizie nel modo più veloce.